Buonasera. Le serie B, credo uniche sicuramente nel panorama italiano, però tra poco, perché adesso urge l'attualità, risultati, classifiche e servizi dalla serie D alla terza categoria. Ovviamente, come vedete, non sono solo, ma sono confortato dagli occhi belli di Giada. Buonasera Giada. Buonasera a tutti. Che tra un attimo ci lancerà i servizi, ce li ha anche quasi, quasi, forse memorizzati. Allora andiamo, Andrea, chiedo la regina.